Ciao ragazzi! Stiamo vivendo un momento storico veramente molto particolare e per questo dobbiamo stare a casa Però allo stesso tempo bisogna stare a casa ma sempre pronte e prontissime per la videochiamata che è sempre in agguato Per non spaventarci quando passiamo di fronte allo specchio e dire Ma chi è? Chi è quella? Chi è quella? Oppure e soprattutto per il nostro benessere psicofisico Ecco perché oggi è pensato a questo video Ho pensato infatti oggi di proporvi alcuni look comodi ma carini da indossare in casa Che partono da un capo che abbiamo tutti nell'armadio ovvero i leggings E cosa succede se dobbiamo uscire per una commissione urgente come può essere la spesa, portare fuori il cagnolino O per qualsiasi altra necessità urgente Basta aggiungere qualche piccolo accessorio, un capo spalla ed il look comodo ma cool Per uscire in questi tempi molto molto particolari sono serviti Ecco quindi un video utilissimo tutto per voi Vai! Look 1 Per il mio primo look ho scelto un paio di leggings ovviamente Con una felpa molto carina con questi tagli sulle braccia un po' diverso dal solito E cosa succede se dobbiamo uscire perché alla kira scappa la pipì? Ecco metto un bomber, un paio di occhiali, una borsa e una sneaker Il gioco è fatto Così esco e mi sento a posto Look numero 2 Per il secondo look oltre al mio paio di leggings Ho scelto un maglione lungo bello calduccioso È perfetto per stare in casa Ma come indossarlo per uscire per una certa urgenza? Basta indossare un chiodo in pelle, una borsettina, un paio di occhiali e un paio di anfibi Il look è servito Terzo look Per il terzo look ho indossato i miei mati, i leggings neri Con una felpa, la classicissima felpa grigia Quindi un look veramente molto semplice anche per stare in casa Come indossarlo per uscire? Lo indosserei con un blazer per dare un tocco di eleganza Un paio di stivaletti stringati ed una borsa a tracolla Next Quarto look Per il quarto look ho indossato qualcosa di nuovo Ovvero un paio di leggings neri Abbinati ad una semplicissima t-shirt bianca lunga Rubato all'armadio di Giova Per uscire basta indossare sopra un maglione coloratissimo, vitaminico Che dà la giusta carica Un paio di sneakers, una borsa a tracolla ed un paio di occhiali Look numero 5 Ho aggiunto al look che avete visto prima un cardigan lungo Perché ancora le temperature non sono esattamente caldissime Quindi è un look comodo e caldo ma molto carino per stare in casa Per uscire basta aggiungere un paio di stivaletti Una borsa carina ed un paio di occhiali E anche in questo caso il look è semplicissimo Look numero 6 Per l'ultimo look ho scelto la tenuta da sporty girl C'è tra di voi, sono sicura, qualcuno che si sta allenando alla grande durante questa quarantena Lo sporty look prevede il nostro paio di pantaloni leggings sportivi Un crop top e per uscire qualcosa in vita per coprire il sedere Un cappellino, una borsa da sneaker Ragazzi spero che questo video su come sfruttare al massimo i capi che abbiamo nell'armadio In questo caso i leggings vi sia piaciuto E se vi piace le date potrò fare altri video su questa tematica Basta che mi diciate qua sotto nei commenti quali sono i prossimi capi Che vorreste vedere in un video di questo genere A prestissimo ragazzi, vi mando un bacione enorme Ciao